Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda la recensione e anche un po' lo spoiler, perché ci sarà parecchio spoiler, degli episodi che sono avvenuti con i libri della saga di Bokkeriam e Jossirma, che consistono in Morati, Tekris, Belakon e Kragnos. Qua vi voglio proporre questi libri perché sono quello che è il punto focale, una pietra ai miliardi di quelli che sono stati gli episodi precedenti, abbiamo visto come si è sviluppato con Soul Wars, My Importance e quindi Necroquake, ma qui si sono molto collegati a Necroquake e anche ad episodi precedenti ancora, quindi vi permette di vedere come da quegli episodi, poi si permette di andare oltre e c'è veramente tanti collegamenti. Io vi porto qui le letture come se fossero fatte una di fila all'altra, quindi prima abbiamo quelle per Morati, poi conosceremo e valuteremo quelli precedenti con Tekris, Belakon e Kragnos, quindi ogni volta scopriremo qualcosa di più che collocheremo con i precedenti e quindi vedremo come si va a evolvere. Ed è questo che mi interessava, cioè farvi conoscere questi avvenimenti, farvi capire il background che c'è dietro, questo non è un modo soltanto per dirvi, vi ho detto tutto e quindi siete a posto, vi ho detto gli eventi principali, vi ho detto quelle che sono le cose più importanti, quelle che sono gli episodi che hanno caratterizzato all'interno di questi libri. Però dopo vi consiglio di andare ad approfondirli, perché c'è molto materiale ancora all'interno di questi libri che io poi non vi ho annunciato, perché secondo me meritano di essere letti a sé stante dalla parte vostra. E oltretutto c'è ancora altro materiale che si può trovare, per esempio, in altri libri sempre della Games Workshop o addirittura nei libri della Blackrably che sono dello stesso arco temporale, quindi c'è veramente tanto da guardare, tanto da comprendere di questi, è veramente un background molto ricco e io volevo approfittare di questo, farvi capire cosa c'è e cosa potete apportarvi. Oltretutto, appunto, con questa sequenza di libri, in modo che potete vedere l'uno dopo l'altro i video e comprendere sempre meglio quelli che sono gli episodi di questa saga, che secondo me è veramente fantastica. E vi voglio ricordare che troverete appunto ogni volta questa anticipazione, che è questa prefazione, che è valida per tutti i video, ma ora andiamo a vedere proprio il libro in questione, perché ci sarà molto da divertirsi e soprattutto molto da andare a comprendere riguardo la progressione del background di Ejocin, ma quindi cominciamo. Il terzo dei volumi per quanto riguarda la saga di Bookerion, rilasciata dalla Games Workshop, ed è relativa in questo caso a Bellacor. Possiamo vedere anche l'Arthur, che è veramente qualcosa di fantastico, mi piace davvero tanto, quindi possiamo vedere come è fatto il libro. Ecco che quindi questo vi permette di andare a vedere qualcosa di molto interessante, che andremo a sbriciare proprio ora. Qui possiamo vedere questo letto di copertina molto bello, che riguarda il caos contro le dottorocchiene. Questo poteste dirmi che non c'entra moltissimo, però vedremo che effettivamente ha una certa relazione con il libro di Moratti, ma la vedremo dopo. Quindi sicuramente interessante, l'immagine è molto bella. Qui possiamo vedere questo, che praticamente, se vogliamo, è un'anticipazione di quelle che sono le pianificazioni di Bellacor e quanto pianifica, perché pianifica veramente tanto. E poi abbiamo qui la parte per quanto riguarda i contenuti, mentre qui abbiamo questo, che è l'elenco dei personaggi principali che hanno partecipato in questo libro. E possiamo trovare un personaggio che abbiamo già visto, e riguarda proprio l'Arcanaut, femmina, quindi di Cardano Overlord, che è compasso in Teclis, quella che ha scoperto, quella che ha scoperto, quella che era i piani per quanto riguarda Neferata per Chamon. Quindi diciamo che torna, e ha anche un ruolo abbastanza importante, quindi interessante. Poi qui possiamo trovare questo, che praticamente è un estratto della partecipazione dell'Islan, quindi dei Seraphon. Questo possiamo vedere anche da questa immagine qui, eventualmente. Però possiamo vedere che effettivamente questo anticipa un po' chi pianifica contro chi. Allora, è molto interessante se ne vediamo per quanto riguarda gli avvenimenti, perché sono iscritti molto bene. È un po' in mano di testa se fin in fine si pensa a pensare a cosa dovrebbe fare l'altro, quindi anche questo è interessante. Qui possiamo vedere quello che è un riassunto per quanto riguarda quello che sta succedendo. Quindi qua possiamo vedere esempio il richiamo per quanto riguarda il libro di Moratti, qua per quanto riguarda quello di Teclis. E abbiamo altre informazioni, quindi possiamo vedere come stanno interagendo le varie fazioni. E in questo caso, sia da un lato anche per quanto riguarda gli schemi di Belacor, sia per quanto riguarda gli schemi dell'Islan, del Seraphon. Però è anche da dire che da qui si evince che tutti hanno un po' idea di cosa stanno facendo. Stanno, diciamo, tramando e altro, però al stesso tempo non sono ben consci di quello che sta facendo l'altro, anche se non hanno il suo aspetto. Quindi è abbastanza peculiare come cosa. E qui uno dei temi principali, che è proprio per quanto riguarda le Seaver Towers, con la caduta di una di queste. Però in modo particolare, perché è un qualcosa in cui si vedono interagire diverse situazioni. Perché abbiamo che a 8peak, quindi dove c'è stato lo scontro per quanto riguarda il controllo della Vanadite, ecco che c'è l'intervento per quanto riguarda la fuga degli Stormcast verso il Gate. E ecco che, dato che c'è questa fuga degli Stormcast che hanno partecipato in Morati, vi ricordo, assieme alle Dr. Keen, a controllo delle soggenti di Vanadite per impedire al caos di sfruttarle. Perché vi voglio ricordare che il caos che realizzava costruzzi in grado di intrappolare gli animi degli Stormcast, una volta uccisi, quindi molto importante. Ecco che si va alla difesa del Genesis Gate. Gardus è a difesa del Genesis Gate, perché sta aspettando comunque i rinforzi. Ed ecco che finalmente arriva un'armata di Seraphon, che però passa per raggiungere il Genesis Gate. Distrugge parte dell'armata che sta sediando gli Arrowhead Knights. Vi voglio ricordare che per quanto riguarda gli Arrowhead Knights c'è Gardus Stissus e i Stissus, che sono appunto le camere guerriere per quanto riguarda gli Arrowhead Knights. E possiamo trovare che appunto Gardus viene deluso, perché i Seraphon sono solo di passaggio. E quindi lui viene a veramente avere qualche dissidio interiore contro i Seraphon, perché sa che dovrebbero essere alleati, però non li hanno praticamente aiutati. Quindi ce l'avrà a morte per questo, per un po' per quanto riguarda Gardus e vedremo fra breve come andrà a continuare. Però ecco che alla fin fine, finché Gardus, e qui è importante questo tipo di inserti, finché Gardus praticamente sta morendo, perché sta venendo ucciso, finalmente arrivano i rinforzi. I rinforzi, da notare, che sono chi? Sono quelli portati da Brett. Brett, che era l'envis of the name che è stato fatto prigioniero in Morati, quando c'era stata appunto la divisione delle due armate e altro, però è stato liberato da una figura, figura che si scopre finalmente essere Belacor. Quindi qui viene a essere un intreccio di tutte le cose, cioè quello che vediamo anche qui è qualcosa che deriva da un altro libro che abbiamo già visto in passato, perché era una pubblicazione precedente, quindi è qualcosa che permette veramente di avere una sinergia del background, leggerli. Questo permette, per quanto appunto Gardus venga distrutto, di liberare parte delle anime perché finalmente si riesce ad avere di contrapasso e quindi finalmente a permettere anche Gardus eventualmente di tornare ad Azir, quindi c'è tanto in questo passaggio. Qui invece abbiamo la parte per quanto riguarda i Seraphon che è passato, i Genesis Gate, vanno velocemente verso la Seaver Tower per assediarla e qui si ha tutto il combattimento che si ha con la notare che appunto per raggiungere la Seaver Tower i Seraphon, che sono i celesti in questo caso, sono distanti da Azir e non riescono ad avere le loro energie e hanno problemi anche loro, diciamo, in terra straniera, mettiamola così. Tant'è che, una volta fatto questo, la guerra porta a una distruzione per quanto riguarda buona parte delle difese della Seaver Tower e dell'armata dei Seraphon ma costringendo la Seaver Tower a prendere il volo. Un volo che prende per andare praticamente nello spazio. Spazio dove trova un'altra armata di Seraphon guidata da Lord Kroak con le astronavi, le stesse astronavi con cui i Seraphon sono fuggiti all'epoca di Old World da Maleus stesso. ed ecco che questo danneggia la Seaver Tower ulteriormente, però riesce questa e qua va capito se viene lasciata o la Seaver Tower trova un buco dove scappare per precipitare su Shamon. Dove trova, una volta atterrata e causato parecchio devasto, una nuova armata di Seraphon, questa volta del luogo, che l'aspetta per di nuovo assediarla e conquistarla. Seaver Tower che viene fatta esplodere, un'esplosione che porta distruzione a manetta sia all'armata di Seraphon sia ai dintorni di Shamon, ma questo permette di raggiungere diverse situazioni che sono sia a vantaggio dell'Islan che a vantaggio di Belaco, perché abbiamo che da parte dell'Islan hanno ottenuto e ridurre la potenza delle Seaver Tower perché sono interlacciate, quindi distruggendone una si indeboliscono tutte quante. E da parte di Belaco che voleva la distruzione di una delle Seaver Tower perché così facendo avrebbe indebolito quello che erano Iriam Gate e indebolendo Iriam Gate avrebbe permesso con più facilità l'accesso da parte delle fessure che si sarebbero venute a generare, distruggendo poi, come in piano, Iriam Gates, la parte del caos, quindi l'energia del caos diffondersi su Aos stesso. E quindi qua diventa molto interessante. Tra l'altro, con la distruzione della Seaver Tower e la distruzione dell'armata, Croc rigenera tramite pensiero, facendone praticamente una copia, il capo praticamente dell'armata di Seraphon, tra i resti che era andato. E qui invece abbiamo quello che è l'intervento dei Caron D'Overload, perché qui abbiamo diverse combinazioni che vanno a interagire. Innanzitutto dobbiamo tener conto che chi scopre che ci sono effettivamente questi problemi è la stessa Caron D'Overload che era stata in Teclis quella che aveva scoperto il problema dovuto a Neferata che stava pianificando di far convergere con la Dio di Shaish, quel rituale. Quindi anche qui di nuovo ritornano varie coincidenze. E troviamo anche Gromty. Chi è Gromty? È un nano molto vetusto, bianco, dalla barba bianca, che sembra molto antico, e se vi è venuto in mente qualcosa legato a Grombrindal, sì, è lui. E lo vedremo anche più avanti. Quindi è molto interessante la cosa, perché è qualcosa di... che praticamente non è... diciamo che alla fine, infine, quello che vedete qua, pian piano, sono semi che germagliano man mano che si va avanti con la parte appunto del libro. E qui abbiamo la parte per quanto riguarda il Death Path. Ecco che qui possiamo trovare che Belacor non ha intenzione semplicemente di agire, ma vuole fare un qualcosa di più interessante. Vuole sfruttare i Night Hunt per dargli una mano. Per lo stesso tempo anche risolvere un antico screzio che aveva con Lady Olinder, perché Lady Olinder aveva affrontato Belacor. Belacor era riuscito a, diciamo, distruggere la forma eterea, temporaneamente, di Lady Olinder, che però se ne frega perché era tornata a Dolorem, e allo stesso tempo Lady Olinder è riuscita a fare una maledizione su Belacor. Maledizione che Belacor, per quanto provi a fregarsene, comunque ne risente, per cui decide di andare ad assaltare Dolorem. Qui possiamo trovare quello che è il background per quanto riguarda Belacor, che secondo me è molto interessante, perché parte anche... tratta parte anche del vecchio mondo, quindi una bellissima immagine è anche un modo per avere maggior idea. Ed ecco che quindi Belacor decide di dividere l'armata in due parti. Una parte, la maggior parte, va direttamente ad assaltare Dolorem, e qui si scopre che, alla fin fine, i demoni non sono così immuni a, praticamente, a quello che è la difesa emozionale per quanto riguarda Dolorem, perché, a quanto pare, la disperazione di Dolorem stesso comincia ad avere effetto sulle capacità dei sentimenti che tengono manifesti i demoni stessi. È molto interessante questo passaggio. E parte va a cercare di andare verso quella che è la parte corporea della Banshee, che è Lady Olindar, perché quello è l'unico vero punto debole di Lady Olindar. Se se ne distrugge la forma fisica, ecco che scomparirà anche la forma, diciamo, eterea di Lady Olindar stessa. E Belacor riesce a raggiungere. Lady Olindar lo blocca, praticamente, quando è lì per distruggere il corpo, però si scopre che, in realtà, Belacor non voleva effettivamente distruggere il corpo, voleva avere una sorta di ricatto verso Lady Olindar. Lady Olindar gli fa capire che la fin fine ne può fregare di meno, perché, vabbè, al massimo muore, e va bene, succede, non ne prende atto. Allo stesso tempo, però, gli ricorda che la medizione che gli aveva lanciato non scomparirà con la morte di Lady Olindar stessa. Quindi c'è questo patto per cercare di unirsi. E Belacor propone a Lady Olindar di darle, praticamente, parte delle anime di Stormcast e Tenas, in modo che possa portarle a Nagash in offerta. E, da notare, Lady Olindar accetta, però, sul tempo, dà un'ulteriore maledizione a Belacor, e Belacor, che prima prova a fregarsene, scopre che, effettivamente, ne ha affetto. Quindi, è veramente una figata questa qua, come parte, perché vede tutti e due le autori essere molto, molto intriganti. E qui possiamo trovare che c'è la collaborazione, appunto, che abbiamo visto prima, tra i Nighthound e l'armata di Belacor, che vanno a saltare diversi punti per quanto riguarda Shamon. E il tentativo è quello di distrarre, da una parte, con i Nighthound, appunto, gli sguardi di chi può essere coinvolto e, quindi, diversificare, dall'altra parte, mentre le armate di Belacor vanno a distruggere molti dei Rian Gate che vengono stati non importanti e che hanno stati danneggiati, comunque, dall'esplosione della Silver Tower che abbiamo visto. E questo, appunto, debilita ulteriormente gli altri Rian Gate. Il suo obiettivo è quello di andare in un specifico punto, che vedremo fra poco, ma qui è molto interessante, perché, mentre succede questo, tutto passerebbe inosservato se, ripeto, come abbiamo visto, quelli che sono gli Card Overlord, non avessero notato la cosa ed erano andati indietro per informare. Qui interviene, per la seconda volta, quello che è Gromty, che è chi? Appunto Gromty, l'abbiamo già detto prima. Ecco che, in questo caso, possiamo vedere che alla fin fine viene fatto in modo che Gromty continua a far notare che c'è qualche problema, grosso problema, e quindi è il caso di andare a comunicarlo, perché potrebbe influenzare tutto quello che è successo. Già si è visto prima in quello che era il Garak Thorum, tant'è che viene spesso detto, e questo è il Necroquake, nella lingua però dei Card Overlord, e quindi viene detto che alla fin fine è pericoloso, quindi c'è un piano, c'è un qualcosa di due armate che attaccano contemporaneamente, lo stesso reame, così, c'è qualche problema, quindi va sistemato. Ed ecco che qui possiamo trovare una cosa riguardante Gardos, perché vi ricordo che Gardos ce l'aveva presa un po' non bene con il Seraphon, per non essere stato aiutato, ed ecco che quindi decide di andare a parlare direttamente con il Seraphon, o meglio, prova. Ed ecco che va quindi al Tempio di Dracotion, e lì tenta di comunicare con il Seraphon. E qui possiamo vedere cosa succede, ovvero riesce a comunicare con Lord Krok, che, diciamo, riesce a fargli capire che, sì, l'hanno abbandonato lì, ma perché avevano altre cose più importanti, e gli dice anche, anche tu hai qualcosa di più importante di quello che sta accadendo. E quindi decide di dargli una rivelazione di cosa succederà, e quindi di andare a dare una mano contro quello che sarà l'obiettivo finale, a fin fine di Belaco. Qui si scopre quindi che effettivamente Lord Krok sapeva già, oppure ha capito nel frattempo, ma comunque aveva idea di cosa stava avvenendo, e quindi che le macchiazioni di Belaco forse hanno funzionato, ma non erano così sconosciute a tutti. Però abbiamo già visto che, appunto, c'era anche Glomity che più o meno l'aveva capite. Quindi c'è veramente tanto a riguardo da scoprire. E qui possiamo trovare quello che è il mezzo dell'obiettivo, ovvero si va verso, da parte di la armate di Belaco, il Gate of the White Cold. Questo è sì un nodo importante, però non è considerato così importante tecnicamente. Quello che lo rende importante è perché dà l'accesso a Vindicadrum, che è quello che è, diciamo, la base dei Selection Vindicatos. E Belaco ha come piano quello di distruggere i Selection Vindicatos per attirarsi il favore dei Quattro Dei del Caos, e fare un qualcosa che non era stato fatto da Abaddon, ovvero distruggere un'intera armata dei Stomcaste Tannos. Qui diventa molto interessante man mano che andiamo a vedere, perché, sì, riescono ad andare, finalmente arrivano, ed ecco che, però, mentre arrivano, c'è anche qualcosa di interessante, perché, ecco che qui viene fatta esplodere da parte degli Scamen, l'unica cosa che era rimasta per quanto riguarda la Seaver Tav che era già esplosa, ovvero i motori della Seaver Tav, quelli che praticamente eravano portati nello spazio. Ecco che, distruggendo quelli, Belaco realizza praticamente il disfacimento dei Riam Gate, dell'instabilità totale e realizza due cose nel frattempo. La prima è che, appunto, stabilizzando questo permette alla materia del caos di essere ancora più intensa e quindi, tra l'altro, lui ne guadagna anche potere e si attira anche i favori dei Riede del caos. Dall'altra parte, ottiene una cosa, si creano i Cursi Sky, Cursi Sky che hanno più o meno lo stesso effetto di quello che aveva la Manala di Vite. Quindi, qui c'è qualcosa di molto interessante perché, mentre, appunto, c'è questo assalto al Gate of the White Gold, c'è un intervento anche di una armata intera, cioè una Stormhost intera, chiamata Sigmarith Bratwood e questi vanno a difendere, appunto, il Gate of the White Gold ed è interessante perché si scoprono che mentre vengono uccisi non possono tornare su Azzir e quindi sono i primi a scoprire che vengono imprigionati in questi Cursi Sky e appunto vengono praticamente trattenuti in questa tempesta ed è devastante come cosa ed è da notare che l'intera armata dei Sigmarith Bratwood viene annientata, distrutta. Quindi, si, Belakor punta a distruggere il Celestial Vendicate ma tecnicamente ha già realizzato un qualcosa di simile perché ha distrutto letteralmente un'intera Stormhost degli Stormcamps Tennis quindi è qualcosa che è stato l'unico e il primo a raggiungere quindi tecnicamente il suo piano ha già funzionato è già riuscito a raggiungere quello che è l'obiettivo finale anche se comunque porterà avanti. Qui abbiamo la parte per quanto riguarda i Seraphon che combattono contro i demoni ed è molto bello e qui passiamo ora alla parte per quanto riguarda Scuse Sky ecco che qui possiamo vedere che mentre tutto si sta manifestando e si sta sviluppando c'è anche finalmente l'arrivo da parte del Cardone Overload a raggiungersi a cercarsi di radunarsi per capire come intervenire tant'è che c'è appunto questa riunione che viene fatta e diciamo ci sono tante separazioni tanti conflitti come sempre da parte dei nani con vecchi rancori o altro finché non interviene di nuovo Gromty che porta una sorta di alleanza se vogliamo chiamarla comunque col suo intervento finalmente riescono a comunicare e a decidere di agire all'unisono per dare una mano appunto per non far rovinare i commerci mettiamola così e qui si ha l'arrivo a Vindicarum per l'arrivo a Vindicarum c'è da notare che c'è già questo incipiente problema nel senso che i Cuse Sky si stanno avvicinando i Stomachist Tennis non hanno esattamente idea all'inizio di cosa sta succedendo però interviene ed arrivano gli Allowed Knight perché Gardus arriva porta a dare una mano e Gardus non è molto simpatizzante per quanto riguarda i Celestri di Ketos perché diciamo il loro modo di fare non li apprezza e da notare anche che non ci sono molti Celestri di Ketos a Vindicarum perché sono altrove quindi tecnicamente anche se Belakor avesse portato a termine il suo piano tecnicamente non avrebbe distrutto effettivamente una Stormost avrebbe distrutto la base di una Stormost che comunque non è da poco però la differenza c'è però comunque una Stormost l'ha già distrutta per cui tecnicamente lui quello che doveva fare l'ha già fatto in ogni caso qui c'è veramente tanto e si vede la disperazione quando si andrà conto della massa di roba che gli sta arrivando e se effettivamente potrebbe succedere che riescono a respingerla ecco che man mano che combattono scoprono che non riescono a tornare ad Azir che vengono imbigionati anche loro dai Kusser Skies e qui c'è tanto perché alla fine continua a esserci anche la domanda se hanno effettivamente fatto bene o altro addirittura il miglior amico per quanto riguarda Gardus che viene tecnicamente soppresso però scopriremo che dopo non solo viene soppresso ma viene praticamente ucciso di fronte a Gardus e c'è finalmente il combattimento con Gardus stesso ma qui interviene quello che è il plot twist perché Gardus è l'amato di non so chi e arrivano proprio i Caron Overlord portando cosa un'intera flotta di Caron Overlord che va a dare una mano ribattendo la situazione qui possiamo trovare anche questo passaggio che adoro perché praticamente questo passaggio è da parte di chi si era opposto fermamente finché non è intervenuto Gromty a intervenire ma quando non interviene decide di farlo fino in fondo ed è da notare che tecnicamente per quanto i Caron Overlord vadano giù pesanti Belaco non ha ancora perso del tutto può ancora raggiungere e far fuori quello che rimane di Stomcast e provare a far qualcosa ma mentre va Belaco ad assaltare una delle navi o meglio la nave principale dell'assalto per quanto riguarda il Caron Overlord scopre che a bordo c'è anche Gromty e Belaco scopre chi è Gromty perché lo capisce vedendolo e quindi decide di darsi la gamba qui potreste chiamarlo Codardo però tecnicamente Gromty è Gromty è comunque una divinità quindi per quanto era stato perso altro Belaco si ritira verrà insultato poi dalle divinità prese in giro però effettivamente ha fatto bene a ritirarsi dobbiamo tenere conto chi ci aveva altrimenti di fronte i suoi obiettivi li ha raggiunti anzi scopriremo anche meglio di quello che pensava e quindi alla fine si si è ritirato però il suo l'ha fatto per cui male non gli va e poi qui vediamo le conseguenze dopo la battaglia quindi cosa succede che effettivamente di Kus e Sky si sono manifestati oltre le previsioni di quello che era l'idea di Belaco tant'è che si stanno diffondendo anche non solo su la sciamore ma anche su di altri piani quindi togliendo quella che è la possibilità da parte degli Stormcast Stennaz di manifestarsi in giro per i Reami e allo stesso tempo non solo di manifestarsi ma anche di rientrare una volta distrutti quindi di essere riforgiati è molto molto pesante come cosa mentre qui possiamo trovare questo che è praticamente una confessazione di Gromty Grombindal con uno dei suoi protetti praticamente finché era sulle navi ed ecco che c'è dialogo su effettivamente che la razza nanica di Dawid dovrebbe essere uniti e altro però la risposta che diceva alla fin fine per quanto prima un po' diciamo non avesse di buon occhio le armate per quanto riguarda il caro di Overlord si rende conto che effettivamente loro hanno un'idea non così banale di quello che sta succedendo quindi alla fin fine voglio unirlo un po' all'utile al dilettevole l'utile al necessario però appunto c'è questa situazione ed è un discorso molto interessante che secondo me vale cioè sono tantissime informazioni qui anche sulle mentalità di quello che sta succedendo mentre qua finalmente troviamo le regole ecco che con le regole possiamo trovare che c'è tanto da guardare ma dovete fare attenzione a cose le regole sono obsolete sono fuori mercato nel senso che sono state scritte con la seconda edizione siamo già alla terza non so quando vedete questo video ma sicuramente siamo magari anche più avanti quindi le regole non hanno più utilità a meno che non giochiate ancora con soft wars come regole ci può stare però vi consiglio comunque di guardare perché ci sono le immagini che sono belle con questo che nuovo modello di bellarco è super riusciato quando è uscito proprio questo libro e le regole della campagna possono essere utilizzate o per altre campagne sia per le regole in sé sia magari per ribatto per un altro sia per tutti i trafiletti tutte le note che ci sono di background che possono descrivere magari tanto di quello che succede oltre che vedere proprio la sequenzialità tramite battaglie di quello che sta succedendo quindi lo reputo sempre comunque una parte da guardare e considerare perché vi permette anche i battle per magari di riadattarli alla nuova edizione che è in corso in quel momento in cui la volete giocare però la fin fine magari può dare idee magari per assedi assalti combattimenti non proprio equi ma comunque che possono riproporre qualcosa o magari per una procedura perché può essere o magari per rienterpretare in una nuova edizione qualcosa che è già successo proprio come le Brooklyn Rions quindi secondo me c'è veramente tanto da poter estrarre da questo anche la parte per quanto riguarda gli aggiornamenti dei Battle Tom questa ovviamente come ho detto è obsoleta però c'è tanto ancora per quanto riguarda l'ispirazione perché magari ci sono i personaggi qui si può vedere magari le immagini magari ricordassi qualche personaggio che si era dimenticato il background gli artefatti magari per personalizzare qualche personaggio in un certo modo che fa sempre comodo e magari per rienterpretare alcune cose perché c'è appunto queste parti qui che permettono magari di personalizzare le proprie armate o magari di costruire un'armata su un certo tema per recuperare magari un concept che era stato proposto quindi secondo me tutte queste cose qui sono comunque cose da tenere in considerazione perché meritano davvero tanto e sono quel tipo di opzioni che vi permette di sfruttare per tenere d'occhio insomma ok questo è Gardus di cui tra l'altro ho realizzato se volete una versione precedentemente a questo modello qui che è il mio Relitor che è appunto più o meno la stessa posa il mio diorama ve lo metto in descrizione e quindi qui possiamo dare di nuovo il retto di copertina e qui la parte finale quindi che dire di questo libro penso che sia veramente molto interessante perché dobbiamo tenere conto che è praticamente un congiungimento di quello che abbiamo visto nei due libri precedenti che sono Morati e Teclis e uno sviluppo perché è un continuo richiamare qualcosa che è già successo è già stato descritto ma magari è lasciato aperto oppure sì era concluso ma non si capiva bene come potesse collegarsi con altro e qui praticamente è qualcosa che fa da nodo l'inclusione è qualcosa che mi piace veramente tanto questo libro è uno di quelli che mi permette di aver riassunto di quelli precedenti ma allo stesso tempo di vedere come si sta ruovendo la storia in modo molto condessato ma anche molto dettagliato perché i continui piani uno contro l'altro e così via sono qualcosa che fa veramente valorizzare tutto quello che sta succedendo con piani che si scontano ciascuno che realizza il proprio obiettivo ma allo stesso tempo pur cozzando uno contro l'altro rimangono comunque entrambi validi e entrambi attivi quindi c'è veramente tanto da tenere in considerazione ad ogni modo da Dynamode per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da Dynamode è tutto alla prossima